Ma chi ha presa la scatola di biscotti? Ce l'ho io, ce l'ho io. Ah, ecco te qua. Agusto? E c'è? C'è Sergio. Ah, fattene un po' a casa, devi c'è da fare un discorso con questo. E tanto avevo finito. E sei degnato finalmente da venire qui. Guarda che t'ho fatto a sto negozio. E' bello, è cambiato da così a così. Te l'ho rifornito tutta la roba, ci ho speso i milioni, ma tutta roba di una qualità. Senti sto pesciutto che è, senti com'è dolce. E ho mangiato. Senti sto pesciutto, l'ho detto, è dolce. E' un zucchero, Sergio, lo senti? E' sto lì, io senti sto lì, queste sono greche, sei? Grechi. E' no, ma dai, sono grechi. Sono buoni. Come so, dì la verità. Sono greche. Senti, Sergio, io credo che mi fa un bel discorso. Come devi dire? Se non so troppo indiscretto, ma di che cazzo vuoi da mia figlia? In che senso? In che senso? Io ho una figlia sola. E non mi va che va presa in giro. Ma io mica la prendo in giro. Anzi. Beh, molto io riconto affatto che mi è successo ieri. Mi ha detto a papà, mi porti a comprare un po' di scarpe a Via Veneto. Capirai a me mi sei allargato il cuore, io e mia figlia a Via Veneto. Qua chi me la guardava. Mentre se stava guardando la patrina delle scarpe, passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi ci dico la cornuto, via qua la cornuto. È venuto tutto il spavardo il più grosso, mi ha dato un cassotto in bocca. Me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue che mi fa uscire la cornuto in guardia. Io ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo. Io ho lutto il setto nasale, io ho frantumato le mucose e gli dicevo alzati, alzati la cornuto, alzati l'abbetto. Pieno di sangue per terra, è il tolitri, non sei alzato. Me lo so guardato, me so girato, me so risistemato la giacca, ho detto papà che è successo mi figlia? Niente, due di passaggio. No, ma comprai scarpe, gli ho detto. Senti, te la sposi o non te la sposi mi figlia? No, ma io me la sposo, adesso ho giusto il tempo un po' di, così un po' di ingranare con questo lavoro nuovo. Ah Sergio, so quattro anni che ingrani con questo lavoro, qui dentro ci ha ingranato tutto. Eh. Ah Sergio, pensa che mi fia. Grazie. 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 Grazie.